... Facciamo io da sopra, guarda, mi dà un sottotitolo. Sofì! 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 Sì! È lei! È lei! Ecco! Ecco! Jean-Paul, ici! Jean-Paul! Jean-Paul, ici! Jean-Paul, merci! Ici Jean-Paul! Jean-Paul, ici! A droite! A droite! Si! Jean-Paul! Non c'è! Jean-Paul, ici! Per favore! Jean-Paul! Jean-Paul! Enzoi! Jean-Paul! Vieni! E si! Disease! Per favore, Jean-Paul, io sono qui con te da stamattina. Ficcio stampa, per favore. Oh, installazione.